Il Parco Mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo è arrivato a Terra Madre al Salone del Gusto, tema della quattordicesima edizione, il cibo come strumento di rigenerazione della società. Alla manifestazione hanno preso parte 3.000 delegati di 150 paesi, circa 350.000 sono stati visitatori che hanno partecipato ai 700 eventi in programma. Per tutti e cinque i giorni nel padiglione dedicato alla Sicilia è stato trasmesso il video Aspettando Terra Madre, oggi visibile anche sul web, della durata di circa 10 minuti. Valore di questo video 10.000 euro finanziato con il progetto Mediterraneo and I to One Brands Meets People. L'obiettivo della partecipazione del Comunical Tenset al Salone Terra Madre di Torino era proprio quello di promuovere a livello internazionale il territorio della Sicilia, della Sicilia centrale, del Nisseno, della nostra città e soprattutto lanciare la grande iniziativa del primo Parco Mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo. Obiettivi pienamente raggiunti attraverso le giornate che si sono susseguite al Salone del Gusto. La presentazione del parco è stata molto partecipata, soprattutto dai presidi siciliani Slow Food e alla presenza dei vertici nazionali di Terra Madre. Infine, una parentesi è stata dedicata anche all'Università di Pollenzo, l'Università Slow Food che prepara classi di ragazzi provenienti da tutto il mondo sulla gastronomia. Così dal 22 al 26 settembre al Parco Loria di Torino sono arrivate le storie di chi ha scelto di restare per generare sviluppo. Il racconto del territorio e dei sapori tra tutti il Torrone Nisseno che ha conquistato chi lo ha assaggiato durante la manifestazione.